mia seconda canna la river sturgeon il mitico giordano bolognese ma sono tutti incazzati stamattina mi sa che smesso di pescare sono tutti così incazzati io non ero così altre volte sono tutti sì sì giusto sono già strato non è una pesca ormai siamo arrivati non siamo dai giovani andiamo a San Nazaro per stare a Borellia fino a 3 metri esatto è andato con il bombolone è bello anche questo ma scampano soltanto noi è un bianco è un bianco bianco bello due bomboloni orca troia basta grossi voglio piccoli mangiato anche lui mangiato anche lui è un bianco è un bianco così potente se non c'è è un bianco non ho recuperato un bianco non ho recuperato un bianco season recupero oh bello questo bello è arrivato un big un po' stanco un po' stanco però è un po' stanco però ma è un po' stanco però mangiato 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 un po' di botte 6 a 3, vieni in recupero un po più grosso, non è un pinocchietto non tirare cioè se la tengo tutta tirata mi spacca il filo mi spacca tanti grossi oggi si si paura della schiena cazzo mani sono mal di schiena vengo bloccato cazzo eccolo un bel pesce un bianco un bianco bel bianco questi qua tirano dei dannati vabbè ha preso la branchia eh sì il filo ho tirato che bel bombolone bella che bel bombolone figa moccis che a 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 e a Grazie a tutti.